La ricchezza cresce, ricchi e superricchi aumentano e a partire dalla crisi economica le ineguaglianze fanno altrettanto. E' questo il verdetto del Global Wealth Report di Credit Suisse, secondo cui nel 2014 il patrimonio globale privato è cresciuto a 263 mila miliardi di dollari, un aumento dell'8,3% rispetto all'anno scorso. Ad assurgere al rango di milionario sono state oltre 3 milioni e 800 mila persone, 216 mila soltanto in Italia, mentre i super nababbi, il cui patrimonio supera i 50 milioni di dollari, nel complesso sono 128 mila. A livello geografico sono il Nord America e l'Europa le regioni che si spartiscono gran parte della torta della ricchezza globale, entrambe ne detengono circa un terzo, mentre la regione Asia-Pacifico, escluse India e Cina, ne possiede quasi il 19%. Ma è la polarizzazione della ricchezza a lasciare di stucco? Pensate, se tra conto in banca e proprietà immobiliari avete più di 3.650 dollari, siete ufficialmente parte della metà più ricca del pianeta. Per entrare nel cosiddetto 1%, però, vi serviranno quasi 800 mila dollari. Ancora di più, metà della popolazione mondiale possiede meno dell'1% della ricchezza globale, mentre l'1% della popolazione mondiale possiede quasi la metà della ricchezza globale.